Adesso invece ci occupiamo di un'importante e significativa iniziativa, Raffaella Coppola. Può essere qualunque cosa, grande o piccola, purché faccia del bene alle persone o al pianeta, rimboccarsi le maniche per ripulire scuole, parchi, spiagge, regalare tempo agli anziani e bambini, dar da mangiare senza fissa dimora, donare il sangue con l'Avis. Roma quest'anno è la capitale del Good It's Day, la capitale delle buone azioni, iniziativa ideata nel 2007 dall'imprenditrice e filantropa Sherry Harrison. Devo dire che sono state tutte giornate assolutamente entusiasmanti, indimenticabili, detto questo comunque è bellissima l'iniziativa qui a Roma che è partita già ieri, oggi, domani è fuori imperiali, sono tantissime iniziative e sono entusiasmata proprio da questa giornata, ma sono tutte speciali. L'iniziativa muove oggi a Roma 17.000 cittadini e domani i fori imperiali saranno animati da artisti di strada, musica, laboratori e dimostrazioni. In contemporanea oltre 900.000 persone in 58 paesi del mondo doneranno più di 3 milioni di ore di volontariato. Raffaella Coppola, TL 125 Roma. Adesso apriamo la pagina dello...